Buonasera a tutti, sono un italiano, un ex atleta della Nazionale di Judo, ho partecipato alle Olimpiadi, Seul 1988 e Barcellona 1992, sono qui per sostenere il mio carissimo amico il professor Sergio Dos Santos, candidato per lo Stato del Paranà come deputato federale con il numero 7055 e sono qui appunto per sostenerlo perché reputo che sia una persona sia a livello umano che a livello professionale di una certa caratura e quindi sono convinto che potrebbe veramente fare del bene per lo Stato del Paranà e quindi vi auguro un in bocca al lupo, lo saluto affettuosamente e saluto tutti voi. Buonasera.